Oggi vi presento Macedonia alla Pier Giorgio. E questi sono gli ingredienti. Grazie a tutti. Ed infine aggiungo il succo di arancio e di limone. Ed anche il mio ingrediente segreto, la vodka al melone. E perciò anche un pizzico di zucchero a piacere. La Macedonia è pronta. Speriamo bene.